Sindaco di Chieti Umberto Di Primio, domani va in Consiglio Comunale la Tari 2018, per il 2017 ci sono problemi, ci sono tante polemiche, ci sono anche accuse da parte dell'opposizione. Gli accusi dell'opposizione ci sono tutte, sono ovvie, normali, scontate e in questo momento anche comprensibili. La verità è che c'è stato un errore formale, meramente formale, sulla formazione della delibera relativa alla Tari 2017, che è stato rilevato dal Tar, noi siamo pronti comunque a fare opposizione a quella decisione dinanzi al Consiglio di Stato, ma di fatto non cambia nulla, cioè non verranno e non possono essere restituite somme ai cittadini, perché il costo del servizio è quello che è stato approvato, cioè il Tar non ha detto il costo non è quello, ma ha semplicemente detto manca una relazione a corredo della delibera, che però ovviamente non cambia il valore numerico di quello che è il costo della gestione dei rifiuti nella nostra città. Quindi capisco che oggi le opposizioni vogliono cavalcare questa vittoria dinanzi al giudice amministrativo, ma nulla cambia rispetto all'amministrazione quotidiana della città, che non si fa con la carta bollata, ma si fa con le azioni serie, con il lavoro costante e non venendo in comune una volta ogni tanto per fare soltanto dei ricorsi al Tar. Chi chiede ai cittadini di fare ricorso li sta ingannando, li sta aizzando per fare confusione, sta cercando di mettere tutto in cacciare perché non riesce a confrontarsi normalmente con noi nelle sedi deputate. Allora si nascondono o dietro la toga di un giudice, oppure si nascondono dietro la rabbia dei cittadini che loro aizzano ma che poi non controllano, come dicono le urne. Passiamo a quelle del 2018. Ci sono novità? Sì, le novità sono quelle di un abbassamento di oltre 1.600.000 euro del costo del ciclo di rifiuti, che ci consente di applicare una serie di riduzioni della Tari, sia per le famiglie che per le imprese, e soprattutto per il piccolo commercio, per le famiglie numerose, per coloro che hanno una serie di agevolazioni, grazie alla nostra previsione, consentirà loro di avere una Tari più bassa di quella pagata lo scorso anno.